Eeeh ragazzuoli ma che bello poter tornare a fare un giorno dove è istituito il cacciaradei come questo qui e mai avrei pensato di dirlo dopo una partita contro un sassuolo pressoché inutile eppure siamo qui e onestamente eppure per me non c'è cosa più bella vuoi perché almeno non si ha modo di parlare di fantamercato considerando che continuano ad uscire 250 nomi al giorno e dallo stesso tempo ho la possibilità di non pensare al campo perché davvero se penso a questa Juventus all'interno del rettangolo di gioco c'è proprio no inizio a tagliarmele per il verticale mentre invece abbiamo la possibilità di buttarla in cacciara col cacciaradei ed è meraviglioso soprattutto quando vieni a scoprire che la Juventus è stata ad oggi fino a questo momento qui quantomeno la squadra più aiutata dagli arbitri in questa edizione della Serie A molto probabilmente qualcuno di voi mi darà del matto ed è una cosa assolutamente legittima questa qui ma il mio non è un dato a caso che vi ho fornito e vi ho buttato lì così ho avuto la possibilità di constatare una fonte direi ben più che affidabile ovvero tiki-taka perché finalmente dopo una vittoria della Juventus che praticamente non dico che sancisce ma poco ci manca il quarto posto si ha finalmente modo di poter tirar fuori nuovamente la classifica senza gli errori arbitrali dalla quale si evince appunto che la Juventus con addirittura 7 punti in più è la squadra più aiutata dagli arbitri in questa Serie A ed è una roba veramente meravigliosa infatti io proprio vi invito a lasciare un bel mi piace se siete fieri finalmente di una notizia bella a modo e che soprattutto dà speranza per il futuro perché ok finché si parla di gioco, di tattiche, di schemi, di mercato è ovviamente un conto in ottica futuro ma nel momento in cui percepisci e capisci finalmente che la Juventus è la squadra più aiutata in Serie A e beh tutto prende un risvolto decisamente migliore in ottica futuro perché dici cazzo ok anno di transazione dove piano piano stiamo iniziando ad ingaggiare tutti gli arbitri e a partire dalla prossima si inizia a fare a modo e iniziamo a fare le cose come stanno proprio stile Juventus ci mancherebbe solo che ho una piccolissima riflessione da fare nel merito perché un mesetto fa circa precisamente cos'è l'8-9 marzo se non vado errato era uscito un servizio delle Iene dove così avevano deciso di fare un bilanciamento su quelli che sono stati gli episodi a favore e contro per la Juventus infatti io il 10 di marzo ho fatto uscire un video chiamato un programma ormai alla frutta perché comunque parliamoci chiaro è di questo che si parla non è che cambi idea nel momento in cui dicono che la Juventus ha subito più torti che favori in questa stagione perché se ti riduci a fare un servizio del genere effettivamente significa che si è arrivato alla frutta però appunto dopo aver analizzato tutti gli episodi più critici e discussi in questa stagione inerenti alla Juventus sia pro che contro Filippo Roma e Graziano Cesari erano giunti alla conclusione che in questa stagione la Juventus in effetti aveva subito più sfavori che favori arbitrali e questo lo ribadisco fino al 10 di marzo e dal 10 di marzo in poi quali sono state le partite della Juventus? La partita di Genova contro la Sampdoria vinta per 3-1 e lì onestamente penso ci sia ben poco da dire a riguardo la vittoria per 2-0 contro la Salernitana e con tutto il bene del mondo direi proprio idem con patate Juventus-Inter dove non penso proprio che la Juventus sia uscita da quella partita con dei favori arbitrali ma potrei sbagliarmi potrei essere anch'io un abitante di Narnia e prenderne atto la vittoria contro il Cagliari dove era stato annullato quel gol diciamo abbastanza grottesco a Rabiot la partita contro il Bologna finita 1-1 dove nonostante un Bologna in 9 penso ci sia ben poco da discutere e parlare di favori alla Juventus e la partita di ieri contro il Sassuolo dove ci potrebbe essere quel dubbio legato al gol dell'1-1 le partite della Juventus da quando era uscito quel servizio delle Iene ad oggi e se fino a quel momento la Juventus aveva subito più sfavori che favori arbitrali che quindi presumibilmente le ha fatto perdere dei punti anziché magari avere 7 punti in più com'è possibile considerando soprattutto quelle che sono state le partite dal 10 marzo ad oggi che la Juventus sia la squadra più favorita della Serie A cazzo poi se parlassi che ne so di una classifica di Sky in confronto ad un servizio di Mediaset potrei capire si parla pure della stessa rete televisiva Tiki Taka e le Iene sono entrambi di Mediaset e se per una fino a un mese fa la Juventus aveva avuto più sfavori che favori e nell'arco di quel mese mese a mezzo ci sono state delle partite dove insomma non penso che la Juventus sia stata particolarmente favorita dagli arbitri com'è possibile che abbia 7 punti in più grazie agli arbitri c'è qualcosa effettivamente che non torna in tutto questo consentitemi di dire effettivamente penso proprio che Paolino abbia discretamente ragione quando dice a Chiambretti che è un programma un tantinino anti-Juventino ma non che ci fossero particolari dubbi nel merito cioè ci mancherebbe altro e solamente per sottolineare questa piccola cosa e sarei molto curioso anche di sapere quali sono state le partite che hanno permesso alla Juventus di guadagnare ma io dico davvero 16-17 punti perché poi vanno tolte anche quelle partite dove la Juventus ha subito dei torti arbitrali e di conseguenza devi fare la differenza tra tutti i favori e tutti gli sfavori ma c'è una discretissima incoerenza rispetto a ciò che era stato detto alle Iene un mesetto prima fa non è che si stia parlando di ottobre dove dici da ottobre a fine aprile magari un qualcosina cambia si parlava del 10 di marzo dove erano proprio stati analizzati all'interno di un servizio tutti gli episodi più discussi a favore e contro cazzo nel giro di un mese dove abbiamo subito un'inculata dietro l'altra addirittura un più 7 siete davvero meravigliosi e a questo punto dato che è stato ufficialmente istituito oggi il Cacciaradei direi a questo punto di parlare per pochissimo un attimino anche della Gazzetta dello Sport che qualche giorno fa aveva fatto un articolo quasi strappalacrime mi sento proprio da aggiungere intitolato smettiamo di parlare di arbitri perché davvero non se ne può più e nel giro proprio di 5 giorni che se non sbaglio appunto quell'articolo era del 20 d'aprile innanzitutto la moviola era GX di Juventus Fiorentino 2 a 0 e ci mancherebbe altro magari a qualcuno sfugge qualcosa è sempre meglio passare tutto quanto era GX per capire bene o male com'è andata la solfa 2 a 0 la solfa è andata così e soprattutto poi ieri dopo Sassuolo Juventus e non lo fai un articolo sulla moviola non lo fai l'articolo sul dubbio del gol del pareggio della Juventus e io direi proprio di sì poi uno giustamente potrebbe dire basta cliccare l'articolo e nelle prime due righe perché poi si parla di un articolo a pagamento e con tutto il bene del mondo sto cazzo che pago la gazetta per vedere un articolo dove parla di arbitri c'è scritto chiaramente che l'autore dell'articolo si riferisce a tutti quelli che sono gli allenatori dirigenti e calciatori che parlano degli arbitri ok però poi vai a vedere quelle che sono le interviste a Dionisi dopo la partita di ieri e lui non menziona mai minimamente l'arbitro e qualche scelta a livello arbitrale e quindi perché nel momento in cui a te gazetta ti dà fastidio se magari ci sono dei tesserati che parlano di arbitri quando i tesserati stessi non lo fanno tu nel dubbio fai l'articolo perché magari ti dà fastidio il clima che c'è attorno agli arbitri e quant'altro e quando i tesserati non dicono parola sull'arbitro e ci pensate voi allora un pochino stona se mi consentite è un tantinino un po' tutto un pochino incoerente diciamocelo chiaramente ma posso capire che faccia parte del vostro lavoro poi però allo stesso tempo non stupitevi quando magari c'è qualcuno che vi dà del giornale imbarazzante perché è palese che sia così e niente io però ancora sono felice felice senza ombra di dubbio all'idea che la juventus sia stata la squadra più aiutata in serie A in questa stagione con addirittura sette punti in più rispetto a quelli che dovrebbe avere poi però io penso a tutte le partite e non penso che la juventus sia stata particolarmente aiutata in questa stagione ma magari mi sbaglio questo senza ombra di dubbio sì ma siete meravigliosi permettetemi di dire per favore che siete meravigliosi e detto questo ragazzuoli nulla noi ci vediamo prossimamente io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao